Milano All News, questo pomeriggio è al Monte Rosa 91, nuovo edificio, nuovo progetto, esempio di riqualificazione green che sarà dedicato sia agli uffici ma anche alla comunità. Infatti il parco sarà accessibile a tutti. E adesso siamo con Andrea Morano di AXA. Quello che ci aspettiamo da questo nostro immobile è una concezione nuova di quello che riguarda il mondo degli uffici, nel senso che riteniamo sia il primo campus in Italia, in senso allargato come lo si intende negli Stati Uniti o come lo si intende nel nord Europa, nel senso non solo un posto dove venire a lavorare, quindi da allocare a una serie di aziende uffici che poi è la vocazione, ma quanto più avere un approccio integrato, cioè fornire tutta una serie di servizi, di amenities, di punti retail che possano essere a corollaria completamente della vita di chi poi lo vivrà, perché chi lo vivrà non saranno semplicemente i conduttori dei 40.000 m2 di ufficio ma anche la municipalità di Milano stessa. Allora dimostra la vitalità e l'interesse ancora di investitori che arrivano da ogni parte del mondo a Milano e credono nella città, realizzano edifici di altissimo livello, qui verranno circa 3.000 persone, ci saranno dalle 10 o 12 aziende che troveranno qui una sede, siamo in una zona né troppo periferica né troppo centrale, ma parliamo sempre di una Milano a questo punto che non ha più un centro delle zone esterne ma che ha molti centri e questo si candida ad essere certamente uno dei tanti centri che cambieranno Milano.